Capitolo 38. Una sera Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. È lei, di certo, è l'arrivo di Lucia. Era proprio lei, con la buona vedova. L'accoglienza è vicendevoli se le immagini il lettore. E la mattina seguente di buon'ora capita Renzo, che non sa nulla e viene solamente per sfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti che fece le cose che disse al ritrovarsela davanti, si rimettono anche quelle all'immaginazione del lettore. Le dimostrazioni di Lucia invece furono tali che non ci vuole molto a descriverli. Sapete già, già vi aspettate, Lucia non dimostra, non è capace, è troppo timida, è troppo impacciata, occhi bassi e non riesce mai a esprimere le sue emozioni, proprio soprattutto quando sono emozioni violente e quando c'ha di fronte Renzo, no? Il suo pudore è quasi scontroso. Vi saluto, come state? Disse a occhi bassi e senza scomporsi. E non crediate che Renzo trovasse quel fare troppo asciutto e se l'avesse per male. Prese benissimo la cosa, per il suo verso. Come tra gente educata si sa far latare i complimenti, così lui intendeva bene che quelle parole non esprimevano tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Ormai Renzo la conosce la sua Lucia e sa benissimo che Lucia non riesce a, non è espansiva, non riesce a esprimere specialmente in pubblico ciò che prova, no? La conosce. Del resto, notate la finezza qui di Manzoni che è veramente dolcissimo. Del resto, sentite, era facile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle le parole, eh Lucia. Una per Renzo e un'altra per tutta la gente che potesse conoscere. Cioè quando Lucia si rivolgeva a Renzo aveva una voce diversa, aveva un tono diverso e bastava questo a esprimere cosa, quanto speciale, quanto profondo fosse l'amore di Lucia, quanto speciale fosse Renzo rispetto a tutto il resto del mondo, no? Per lei. È dolcissimo, è finissimo questo, questo passaggio. Bene. Renzo dunque finalmente va da Don Abbondio e gli deve chiedere finalmente di celebrare le nozze. E sentite come ironicamente fa. Allora, Renzo fino a quel momento non aveva fatto pressione a Don Abbondio. Ormai è maturo, sa che Don Abbondio potrebbe sfuggirgli, svicolargli, non ha voluto far pressione al curato finché Lucia non fosse arrivata. Ora è arrivato il momento e sentite con che ironia vado a Don Abbondio. Con un certo fare tra burlesco e rispettoso gli disse, signor curato, le è poi passato quel dolor di capo per cui mi diceva di non poterci maritare? Ora siamo a tempo, la sposa c'è e son qui per sentire quando li sia di comodo, ma questa volta sarei a pregarla di far presto. Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare, a trovare certe altre scuse, a fare certe altre insinuazioni. E perché mettersi in piazza, far gridare il suo nome con quella cattura addosso? La cosa potrebbe farsi ugualmente altrove e questo e quest'altro. Insomma, Don Abbondio non è ancora convinto di sposarli. 1. Non sa se Don Rodrigo sia morto vivo e se possa guarire. Renzo glielo dirà che ha visto Don Rodrigo al lazzaretto, ma Don Abbondio non è sicuro finché non saprà se il potere della famiglia Don Rodrigo, se qualcuno o se Don Rodrigo stesso guarito potrebbero di nuovo far valere la minaccia su di lui. Inoltre c'è quella, dice, quella cattura addosso, cioè c'è ancora il bando di Renzo. Al capitolo 37 il nostro autore ci dice, ci aveva detto che il bando su Renzo era ancora valido in teoria, anche se in pratica era molto improbabile ormai che venisse ricercato perché c'era stata la peste, perché ormai a nessuno interessava più di catturare il capo rivolto a Lorenzo Tramaglino. Però ancora sulla carta, diciamo così, c'era un mandato di cattura e Don Abbondio, anche quello, lo ritiene una cosa che potrebbe prima o poi creargli dei guai. E insomma vuole scansare il problema, ancora una volta suggerendo a Renzo di andarsi a sposare là nel territorio di Bergamo dove poi vivranno. Renzo cerca di stare calmo, torna a casa, fa una bella riverenza, però torna a casa dicendo proprio quello dell'altra volta. E l'uomo dell'altra volta non è cambiato. Quella mutria, quelle ragioni, sono sicuro che se la durava ancora un poco mi tornava in campo con qualche parola in latino. Vedo che vuole essere un'altra lugagnata, c'è un'altra lungaggine. È meglio fare addirittura come dice lui, andare a maritarsi dove andiamo a stare. Questa è l'idea di Renzo. Ma la mercantessa decide di fare lei un tentativo insieme ad Agnese e Lucia. Dopo desinare voglio che andiamo per non tornare a dargli addosso subito e poi intanto andiamo a fare una passeggiata. Quindi la mercantessa con Lucia e il rezzo fanno una passeggiata con l'idea di tornare alla carica nel pomeriggio. Cosa volete? Dice ancora Don Abbondio racconterà delle sue questioni. La mercantessa e Lucia racconteranno anche loro dell'esperienza della peste. Anche Don Abbondio ricorderete ce l'ha avuta. Quindi dopo un po' di convenevoli tornano al discorso del matrimonio. Don Abbondio però era sordo da quell'orecchio, dice il nostro Manzoni. Non che dicesse di no, ma eccolo di nuovo a quel suo serpeggiare, volteggiare, saltarli pali in frasca. Bisognerebbe, diceva, poter far levare quella cattura. Chiede alla mercantessa se per caso abbia qualche buon cavaliere, qualche protezione. Insomma si capisce che ancora non è tranquillo. Dico la verità, dice Don Abbondio, con quella cattura viva, spiattellare dall'altare il nome di Lorenzo Tramaglino. Non lo farei col cuore quieto, gli voglio troppo bene, avrei paura di fargli un cattivo servizio. Cioè Don Abbondio dice se noi facciamo un atto ufficiale o scriviamo nei fogli il nome di Lorenzo Tramaglino, essendo lui nello stato di Milano ancora ricercato, magari lo arresterebbero, magari ne arriverebbe qualche guaio al curato stesso. Insomma Don Abbondio ha sempre una buona scusa. Ma mentre discutono Renzo arriva con passo risoluto e annuncia un'altra novità. È arrivato al palazzo di Don Rodrigo il signor marchese Puntini Puntini. Don Abbondio tra secoli è arrivato dove? Al palazzo. Renzo con un testimone che Don Abbondio può, come dire, su cui Don Abbondio può fare affidamento, cioè il suo sacrestano Anselmo, saprà da Renzo che Don Rodrigo è veramente morto e che l'erede del palazzo è un marchese di cui il nostro romanzo non dice il nome ma che è un uomo del tutto diverso. Non è un prepotente alla Don Rodrigo ma anzi è amico del cardinal Federico, è un uomo giusto e benevolo. Ed ecco che finalmente il nostro Don Abbondio si rilassa. Si rilassa e in questa parte finale del nostro capitolo vediamo finalmente il volto positivo del nostro povero curato che in fondo in fondo quando gli si leva la paura diventa poi simpatico, un buonaccione e anche sinceramente affezionato ai suoi parrucchiani. E infatti non appena Don Abbondio si libera dall'incubo di Don Rodrigo commenterà che la peste è stata una scopa, è stato un gran flagello questa peste ma è anche stata una scopa, sentite la metafora, ha spazzato via certi soggetti che figlioli miei non ce ne liberavamo più, erano verdi e freschi e prosperosi. E invece in un batter d'occhio sono spariti, dice Don Abbondio. E dopo questo ecco, dice ci ha dato un gran fastidio a tutti eh, vedete che adesso lo possiamo dire. E Renzo dice a Don Abbondio io gli ho perdonato di cuore, ecco. Don Abbondio rispose fai il tuo dovere ma si può anche ringraziare il cielo che ce n'abbia liberati eh? E poi a questo punto anche il bando non è più un ostacolo che preoccupa tanto. In quanto alla cattura vedo anch'io che, dice Don Abbondio subito dopo cambiando proprio registro, non essendoci ora più nessuno che vi tenga di mira e che voglia farvi del male non è cosa da prendersene gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso, vedete che ce l'aveva in testa la soluzione. Decreto grazioso, cioè un decreto di amnistia, di grazia per la nascita del serenissimo infante. Vi ricordate? Sotto la peste c'era stata pure la festa per la nascita del principino di Spagna. E poi la peste, la peste ha dato di bianco a di gran cose, la peste. Insomma, se volete, oggi è giovedì, domenica vi dico, in chiesa, finalmente. E adesso si lascia andare, finalmente. Scherza, ride, finalmente la tensione si scioglie. Don Abbondio dice che vorrà anche avvertire sua eminenza, cioè il cardinale. Agnese dice che ha imparato che non bisogna dire così. C'è un dibattito tra i titoli che bisogna dare. Illustrissima signoria, eminenza. Adesso tutti vogliono fare l'eminenza. No, l'eminenza è solo per i cardinali. Ma chissà, tra pochi nobili saranno invidiosi e vorranno farsi chiamare eminenza anche loro. Noi curati, invece, figuriamoci se ci danno qualche titolo. E, insomma, cominciano a scherzare. Tant'è che Don Abbondio comincia a stuzzicare Agnese, dicendo, beh, adesso che bisogna ricominciare a vivere, dopo la peste bisognerà trovare un marito alle vedove. E allora Agnese potrebbe essere una bella donnina che potrà trovare marito. E poi comincia a fare le battute anche con la mercantessa, il nostro Dan Abbondio. Cioè, diventa un simpaticone. Incredibile. Eh, il mondo non vuol finire. Lei, signora, non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi? Cioè, dei corteggiatori. No, no, io non ci penso, non ci voglio pensare, dice la mercantessa. Ma sì, sì, che vorrà essere lei sola. Ancagnese, veda, Ancagnese. Ih, ha voglia di scherzare lei, dice Agnese. Sicuro che ho voglia di scherzare. E mi pare che sia ora, finalmente, dice Don Abbondio. Ne abbiamo passate delle brutte, ne è vero i miei giovani, delle brutte ne abbiamo passate. Eh, i birboni possono morire. Dalla peste si può guarire. Ma agli anni non c'è rimedio. Eh, povero me. Senectus ipsa e smorbus. Cioè, la vecchiaia stessa è una malattia. Dice, quindi voi fate, divertitevi. Io, poverino, sono vecchietto. Un po' di vittimismo anche nello scherzo. Ce lo mette sempre. Ora, disse Renzo, parli latino quanto vuole. Ecco che qui fa pace con Renzo. Che non me ne importa nulla. Ah, tu l'hai ancora col latino, tu? Bene, bene, ta' come dovrò io. Quando mi verrei davanti con questa creatura? Domenica, no? Al matrimonio. Per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, sapete che il rito, la messa, ma anche i matrimoni, i sacramenti, tutti venivano celebrati in latino. Ecco, tu ce l'hai col latino, dice Don Abbondio. Voglio vedere se quando ti sposo ti arrabbi che parlo latino. Per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò, latino tu non ne vuoi? Vattene in pace, no? Ti piacerà? Eh, so io quel che dico, risprese Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura. Quello è un latino sincero, sacro santo, quello della messa. Parlo invece, quello che non gli piaceva, è quel latino birbone, quello fuori di chiesa, eh, che viene addosso a tradimento nel bello di un discorso. Insomma, ma quel latino che andava cavando fuori quella volta, eh, lì proprio, per darmi a intendere che non poteva, che ci voleva delle altre cose, che so io. Me lo volti un po' in volgare ora, Renzo non, un po' lo stuzzica, eh, non rinuncia a rimproverare. Dice, ma no, no, io non sto parlando, non mi piace il latino della messa, ma quello lì che mi dicevate come scusa, non è che adesso me lo può voltare in volgare, cioè me lo potete tradurre. Sta zitto buffone, sta zitto, gli dice Don Abbondio. Non rimestare queste cose, no? Che se dovessimo ora fare i conti, non so io che avanzerebbe, no? Anche lui ha da rimproverare a Renzo il matrimonio a sorpresa. Su, io ho perdonato tutto, non ne parliamo più. Ma me ne avete fatti, eh, dei tiri. Dite, non mi fa specie che sei un malandrinaccio. Ma dico questa acqua quieta. Adesso comincia a stuzzicare anche Lucia. E notate che, ironicamente, Mazzoni fa dire a Don Abbondio che Lucia è una santarellina, però invece sotto sotto non lo è. Un po' come pensava Donna Prassede, pensate un po'. Eh, ma tu sei malandrinaccio. Ma dico questa acqua quieta, questa santerella, questa madonnina infilzata, vedete ancora una volta, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già lo so io che l'aveva ammaestrata, no? Lo so io, lo so io. Così dicendo accennava Dagnese col dito che prima aveva voltato contro Lucia. E non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesse quei rimproveri. Ecco, parlare di quello che ci ha fatto soffrire, ci ha messo uno contro l'altro, nel momento in cui ormai siamo pronti a perdonare, significa alleggerire, superare insieme, accettare quello che è stato e dirselo senza più asti o senza più odio, no? È un momento di distensione. Bene, e adesso vediamo chi è questo signor Marchesi. Al mattino dopo, perché questa riabilitazione di Don Abbondio, ecco, non è finita, ma si completa al mattino dopo. Un uomo, ecco, arriva in visita dal curato proprio il Marchese. E sentiamo chi è. Il signor Marchese, del quale si era parlato, si presentò un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui. Aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una ammestizia rassegnata. È un uomo anche triste, perché la peste gli ha portato via la sua famiglia. Vengo, disse a Don Abbondio il Marchese, a portarle i saluti del cardinale arcivescovo. Infatti, vi dicevo, è amico. Bene, il Marchese chiede proprio al curato, ha saputo dal cardinale Borromeo, della vicenda di Renzo e Lucia, è venuto a chiedere al curato in che modo lui possa un po' rimediare al male fatto dal precedente signore e quindi come possa aiutare i ragazzi. E qui Don Abbondio è fantastico, ragazzi, perché veramente fa del bene a Renzo e a Lucia. Infatti, gli vengono due idee. La prima. Chiedere di cancellare il bando sul Renzo. E lo dice con il cuore, è convincente, perché il signore, il Marchese dice, ma come mai questa cattura? Ma questo ragazzo ha fatto qualcosa di grave? E lui dirà invece, no, assolutamente, io lo conosco da quando è nato. Questo è un ragazzo che non è capace di far del male. Io vi assicuro, qui garantisce per Renzo, con sicurezza. E quindi il Marchese annullerà, farà annullare il bando di cattura sul Renzo. E poi, non contento, suggerisce al Marchese un'altra cosa, perché il Marchese chiede che vorrebbe aiutare anche materialmente i due sposi. Don Abbondio sa che il Renzo è orgoglioso, che non vuole la carità, ma sa anche che il Renzo vuole vendere. E anche Agnese. E quindi chiederà al Marchese di essere lui ad acquistare la casa di Agnese, la casa di Renzo e il piccolo terreno annesso. Il Marchese andrà dunque a conoscere gli sposi e a casa d'Agnese, con Don Abbondio, chiederà al parroco di fare una stima del valore di questa proprietà. Il parroco Don Abbondio esagera, cioè chiede un prezzo che secondo lui era altissimo e il nostro Marchese, che fa, lo raddoppia. E gli dà i soldi. Raddoppia la valutazione. E poi, nel salutarli, invita per il giorno successivo al suo palazzotto la piccola famigliola e gli sposi per un pranzo di nozze. Immaginate, anche questo è simbolico, no? Immaginate cosa potesse significare per Renzo e Lucia festeggiare il loro matrimonio proprio nel palazzotto di Don Rodrigo. È una vittoria completa. Veramente, con proprio una precisione estrema di ogni dettaglio, tutti i fili vengono dipanati, chiusi e risistemati in un nuovo ordine, in un nuovo equilibrio. Infatti, i nostri personaggi, quindi la mercantessa, Renzo, Lucia e Agnese, saranno ospitati nel Tinello, dove verrà servito un ottimo pranzo e il Marchese addirittura si scomoderà a farli accomodare, servirli del loro vino, eccetera, eccetera. E poi però non pranzerà con loro. E qui ritorna, e anche questo è importante in questo capitolo finale, un altro aspetto del realismo di El Manzoni. Sto cercando il punto, ecco, sì. Ecco, il Marchese, dopo aver servito gli sposi, si ritira a pranzo con Don Abbondio nella sua sala nobiliare. Vuole star lì un poco a far compagnia agli invitati, aiutò anche a servirli. E poi dice Manzoni a noi, lettori, a nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Io ve l'ho dato per un bravo uomo, questo Marchese, ma non per un originale, come si direbbe ora. Voi ho detto che era umile, non già che fosse un portento di umiltà. N'aveva quanto ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per ristarlo in pari. È finissima, ragazzi. È di molti, veramente serve anche oggi, è di molti uomini che sono pronti a far del bene a chi ritengono loro inferiori, ma mettersi sullo stesso piano no. È come chi, voglio dire, va a far beneficenza all'estracomunitario, ma se l'estracomunitario diventasse il fidanzato della figlia o diventasse, non so, convivente vicino di casa, avrebbe un po' da brontolare. Quindi anche il Marchese, che è una persona realisticamente rappresentata, è una brava persona, è umile, tanto da fare gli onori di casa. Dopodiché mettersi a tavola con gente del popolo no, è troppo, non è un santo il nostro Marchese, però è proprio una brava persona, con qualche pregiudizio, qualche spocchia, qualche, e qualche, come dire, superbia tipica della sua, della sua classe sociale. Comunque, senza dubbio, e insomma. L'ultima parte del capitolo ce la riserviamo ad un'altra lezione e propone un finale protratto che ci prenderà qualche altro minuto di commento.